Torna dopo mesi di stop l'appuntamento con il mercato settimanale del martedì in via Prosperi. La data prevista per la riapertura è il 26 maggio, ma non mancheranno le regole da rispettare. L'ha sottolineato il sindaco della Spezia per Luigi Piracchini, con un'ordinanza redatta in collaborazione con gli uffici dell'assessorato al commercio delegato a Lorenzo Brogi. Una parte dei posteggi collocati nel lato dei palazzi saranno riposizionati per consentire l'apertura di tre varchi di emergenza, L'accesso al parco 25 aprile rimarrà chiuso e sarà creato un percorso a senso unico, con l'ingresso al mercato esclusivamente da Via L'Italia e l'uscita su Via del Canaletto. Disposizioni che regolano anche il comportamento dei cittadini che si recheranno al mercato. Sarà obbligatorio indossare le mascherine ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni o persone con disabilità. Si potrà sostare a una distanza di 60 cm dei banchi, mantenendo la distanza interpersonale. Per quel che riguarda gli operatori del mercato avranno l'obbligo di pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'inizio delle operazioni di vendita, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani e guanti per toccare la merce, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori, anche nell'operazione di carico e scarico, usare guanti, usa e getta e sistemi di disinfezione delle mani, in particolare nell'operazione di pagamento, pena, in caso di violazione dell'ordinanza sindacale, una sanzione compresa tra i 400 e i 3.000 euro. Le linee guide per la riapertura seguono quelle dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il 16 maggio scorso.